il fatto della corsa, poi frenata brusca, si riparte lento, corsa frenata io questa cosa l'ho percepita molto al quarto episodio con il cliffhanger, tra virgolette se così vogliamo chiamarlo perché in realtà veri cliffhanger non ci sono tranne forse nel primo episodio che Sabine viene trafitta infatti i primi due episodi ero molto propenso verso l'elogio di questa serie nonostante ci fossero delle piccole cose che già notavo di prolissità ad esempio già nel primo episodio quei 10-15 minuti di Sabine che va con la speeder bike verso la torre di Lota oppure la stessa Nuova Repubblica che moltissime tematiche, rivedendola mi rendo conto che non hanno portato a nulla se non a prendere tempo ad esempio, la possibilità che era fosse degradata di rango per quello che ha fatto alla fine poi tra l'altro il come avviene con C3PO anche la prima volta che ho visto C3PO a me non è piaciuto per niente sentendo, partendo una musichetta un po' trionfale, queste cose qua e vedendo C3PO là già su, perché era ormai il settimo episodio mi sembra, compaia già la mia visione su Asoka si era fatta molto più critica diciamo e quindi C3PO l'ho trovato totalmente fuori contesto, inutile se non per richiamare una strizzata d'occhio a ah guarda te lo ricordi, come non me lo ricordo e questo è un problema se ci pensi perché in quella scena nei romanzi avremmo visto Leia, ma l'attrice è morta certo quindi non vogliono fare né il recasting né mostrarla in computer grafica ed è il problema che qui abbiamo con Bella Scola un personaggio basilare che deve andare avanti e o cambiano le politiche interne di Lucasfilm o è difficile per com'è stata sostesa la trama secondo me è necessario un recasting un po' perché forse sono affezionato al proposto di Baylan al suo obiettivo ma anche lì è problematica secondo me la cosa perché è molto raffazz... più che raffazzonata sono, come dicevo prima, diversi spunti interessanti che sia il proposto di Baylan di rompere il ciclo continuo della storia e rintracciare un principio che sia, tralasciando invece la Nuova Repubblica che, come dicevo, pone una problematica il tempo di trama dell'episodio che ti occupa la giornata per arrivare ad una conclusione la conclusione si ritorna allo status quo iniziale quindi, a parte queste cose altri elementi che siano, come dici te, l'impatto visivo che riguardandolo è quello che più mi... ovvero l'atmosfera creata dalla messa in scena favorita dai costumi dalla fotografia dalla computer grafica dalla musica molto suggestiva anche dalle interpretazioni stesse attoriali è molto ben riuscito questo aspetto secondo me soprattutto i villain all'inizio hanno una grandissima presenza a livello scenico che si abbellano con la sua imponenza ma anche la stessa Shinati come ne definite te, uno sciacallo del male ma proprio poi contrapposta con Sabine nei primi due episodi era molto impattante a livello visivo oppure l'allenamento di Sabine con Ahsoka all'inizio del terzo episodio quando Ahsoka la fa combattere con... con la maschera la visiera con la maschera esatto l'insegnamento del non ti devi affidare solo sulla vista devi allenare anche la mente la percezione che è una cosa di bellissimo mi viene in mente gli esercizi che facciamo a teatro di... da bendati di percepire l'altro percepire il territorio quindi a livello mentale a livello di sensazioni corporee sono comunque bei messaggi che Ahsoka la mette per appunto alla prova Sabine per come reagisce considera impossibile il combattere senza vedere e la trovo un po' anche lì concludente o comunque non prettamente incontinuiti con quanto visto perché lei è addestrata da Kenan Jarrus che combatteva da cieco ha fatto cose straordinarie senza la vista quindi lei è convinta di poter diventare una Jedi allora dovrebbe accettare di questa possibilità invece come la prenda è impossibile non ci vedo quindi non posso combattere l'ho trovata un po' forzata ci sono alcune cose proprio a livello di scrittura che vanno bene a citare Kenan Jarrus a citare alcune cose cadute altre che invece ci penso conoscendo quell'elemento dico ok ma perché dice questa frase? ciò che mi è sembrato non solo per Sabine ma in particolare per Ezra è un'involuzione di personaggi ok che la devi presentare a un pubblico nuovo ma Sabine dal primo episodio è totalmente ha avuto una totale regressione la posso spiegare cioè sembra molto infantile così come non tanto infantile ma veramente appena vedo Ezra Bridger ma anche negli altri episodi mi sembrava più una una maschera quasi un fantoccio queste espressioni molto caricate allora molto caricate Ezra diciamo che è perfetto trasporto però non sono passati per lui nove anni e la cosa che ho trovato veramente fastidiosa io è il finale cioè il finale lui sta abbandonando le due persone a lui più care che sono venute a salvarlo lui è rimasto qui bloccato quindi teoricamente li sta lasciando bloccate in un posto in cui non ci viene di ritorno se no per l'anello di Sion lui se ne va ma è la prima cosa che fa anziché girarsi guardarle fa la battutina che livello lì nominativo ci sta perché sta rubando a uno Stormtroopers anonimo la stessa armatura quindi cosa da Ezra Bridger è omonimo a uno a cui l'ha già fatto Revers quindi ok però lo fa pacato proprio così prende la nave di Bain a scuola alla fine arriva da Hera chiudono occhio perché alla fine dico vabbè accetto però lui mi scende per farlo scherzone vestito da Stormtrooper ho capito citazione l'Odissea che non è argo riconoscerlo ma Chopper però non posso credere a livello proprio realistico che lui abbia preso la navetta da Tron si sia fatto non so quanti chilometri salti nel niperspazio con il casco toglitelo e appena arrivi scendi non ha senso aveva più senso che Hera non lo riconoscesse per la barba e la prima cosa che deve dire non è il suo sono tornato Tron è tornato perché l'intenzione dei personaggi mancano io ho quello che a me dà fastidio della scrittura che però capisco poi è sempre una argomentazione molto ampia perché mi ricordo che il pubblico generalista non coglie bene l'intenzione dei personaggi e spesso siamo troppo critici noi che affrontiamo queste serie però l'altro è una chiave di lettura teatrale una chiave di lettura di sceneggiatura narrativa e cinematografica che è diversa quindi le intenzioni sono ciò che muovono il personaggio Ezra lui che si è sacrificato per far andare Tron in Superidea comunque in questa nuova galassia lui che torna e non dice Tron è tornato ma sono tornato io sorridendo avendo abbandonato Ahsoka e Sabine là non è nel personaggio quello non è il personaggio perché dovrebbe arrivare a dire Sabine e Ahsoka sono in pericolo Tron è tornato il sorriso così sono tornato io egoistico non è più Ezra cioè io reputo più maturo l'Ezra che si sacrifica della fine della quarta stagione così come reputo più matura la Sabine della quarta stagione rispetto a quella che ho trovato nei primi episodi e anche qui reputo davvero un peccato quello che è successo perché ci sono degli archetipi narrativi nei personaggi molto molto forti che sia Sabine in questo caso il fatto che come dicono lei ha perso la sua famiglia il fatto che non era alla cerimonia di inaugurazione del murales quello che si vede anche alla fine di Rebels e perché ha perso Ezra che era suo fratello lo considerava come tale ha perso successivamente nella purga di Mandalore nella notte delle mille lacrime non solo tutto il suo popolo ma anche la sua famiglia di sangue in un periodo in cui veniva addestrata da Ahsoka e Ahsoka la abbandona Sabine a livello psicologico è stata veramente distrutta e infatti e mi è piaciuto moltissimo il fatto di come si parte nella serie ovvero due personaggi ma è un maestro e un apprendista traumatizzate ovvero Ahsoka traumatizzata dal suo passato dall'anakin dal lato oscuro in lei tramandatogli dal suo di maestro però anche qui quanto si capisce questo elemento esatto è questo che mi fa arrabbiare perché io lo sapevo perché ho visto Beklon Wars il ciclo di Mortis perché ho letto il romanzo Ahsoka perché comunque ho una cultura dietro al livello di Star Wars però il pubblico generalista che ha visto Ahsoka soltanto nel live action ma già che ha visto anche Rebels e Beklon Wars non ha capito benissimo questo elemento perché il problema del lato oscuro in Ahsoka nasce da Rebels quando lei si rende conto che Anakin è sopravvissuto quando lo combatte come Darth Vader ma quando poi la vediamo in Mandalorian l'unica frase che dice su Grogu è ho già visto l'attaccamento dove porta ed era un riferimento molto vago in questa serie neanche nomina neanche dice era il mio maestro non lo dice proprio non lo nomina e c'era questo riferimento che noi possiamo cogliere poi nel book of Boba Fett Ahsoka è molto più la bianca di quanto lo sia a volte qui nelle scene nella finale quindi ok io quando è arrivato Anakin sapevo tutto la scena del mondo tra i mondi dove sarebbe andata a parare però non è costruito il fatto che lei abbia dentro questo forte problema questa forte paura che anche lei potrebbe essere morte perché glielo dice Ben Nascola sì però Ben Nascola è un personaggio in cui anche noi l'abbiamo conosciuto effettivamente in questa stagione potrebbe voler dire tutto non sappiamo il passato che ha magari mente cioè è qualcosa che non è costruito bene questo problema di Ahsoka come non è costruito bene effettivamente tutto quello di Sabina mi mancano queste basi